Nuclei ghiacciati che formano la grandine che raggiunge dimensioni di diversi centimetri, una grande energia termica che si accumula generando aggregazioni anomale che infieriscono sulle colture in campo ma anche su tetti, reti di protezione e mezzi agricoli non risparmiando abitazioni e autovetture che si ritrovano con vetri spaccati e vistose a maccature. È il clima avverso che sta caratterizzando l'estate 2023 nel nord Italia, in Emilia Romagna e ovviamente anche a Ferrara e nella provincia estense. Sì purtroppo è una costante ormai di questi mesi perché questo 2023 ricorderemo ovviamente come una somma di calamità, di eventi climatici assolutamente negativi e adesso ci troviamo da affrontare sicuramente fenomeni che nella normalità capitano perché le grandinate estive suonano costante e succedono ma non succedevano fino a qualche anno fa con questa intensità, con questa violenza, con un ripetersi continuo magari sulle stesse zone che vengono falcidiate più e più volte e con dimensioni dei chicchi di ghiaccio che sono assolutamente anomali perché a memoria ricordi forse di 10-15 anni fa di un altro evento simile che ha provocato danni ma parliamo appunto di arcenni. Oggi invece sono situazioni che si stanno ripetendo a distanza di qualche anno o di qualche mese addirittura o di qualche giorno perché l'ultima cosa di grandinata di 22 luglio scorso quindi di sabato è stata preceduta qualche giorno prima da altre grandinate e in alcuni territori appunto ripetute. Vogliamo lanciare una sollecitazione a tutti quanti soci ma anche ai cittadini perché è il momento di fare effettivamente il punto della situazione quindi di vedere quali sono stati danni. Da un lato abbiamo un percorso che è quello delle aziende agricole e delle attività produttive quindi che devono rivolgersi in primis alla propria assicurazione ovviamente saranno stipulate e speriamo che sia capiente. E poi eventualmente per quanto riguarda aziende agricole venire ai nostri uffici segnalarci gli eventi in modo che riusciamo ma nel giro di qualche giorno a segnalare tutto quanto la regione che si possa attivare per chiedere al governo stato di calamità dell'imitazione e le attivazioni delle eventuali compensazioni e risarcimento che possono essere possibili. Dall'altro dal punto di vista di chi anche come cittadino ha avuto danni agli edifici alle finestre alle macchine e tutto quanto quindi non produttivo anche in questo caso tenere tutto segnato annotato e sentire presso i comuni per poter fare le segnalazioni anche questo la protezione civile per poter avere eventualmente risarcimento che potrebbero arrivare appunto i cittadini in regione di una eccezionalità dell'evento e speriamo che finiscano perché purtroppo l'evento climatico sta diventando ripeto come detto prima molto più frequente e molto più violento rispetto al passato mettendo anche in discussione i normali modi di difendersi attivamente tipo le grette anti grandine che vengono diverte vengono distrutte da queste grandinate